La duchessa di York ha trascorso il suo primo giorno di Natale da nonna da sola mentre la sua famiglia pranzava con la regina al castello di Windsor, secondo quanto riferito ieri da fonti. Si pensava che Sarah Ferguson sarebbe stata portata dal freddo dopo essere stata separata dalle sue figlie a Natale e dal resto dei reali dal suo divorzio del 1996 dal principe Andrea. Ma Fergie è rimasta al Royal Lodge. La casa che condivide con l'ex marito Andrew Il principe, insieme alle figlie della coppia e ai loro mariti e figli, si è unito a una grande festa di famiglia che celebrava con la regina a tre miglia di distanza al castello, hanno riferito fonti al Daily Express. Dopo la rottura di Andrew e Fergie, il principe Filippo non poteva sopportare di avere la sua ex nuora, 62 anni, nella stessa stanza con lui, a meno che non fosse assolutamente necessario. Significava che trascorreva il Natale altrove o soggiornava a Wood Farm nella tenuta di Sandringham in modo che le sue figlie, la principessa Beatrice, 33 anni, e la principessa Eugenie, 31 anni, potessero vederla per parte della giornata in cui i reali erano a Norfolk. La regina è sempre stata più accomodante e alcuni addetti ai lavori hanno pensato che potesse essere raggiunta da Fergie quest'anno dopo la morte di Filippo ad aprile. Ma fonti a Windsor hanno insistito che la duchessa fosse scomparsa dal grande raduno. Buckingham Palace ha rifiutato di commentare, ma si sa che la regina ha ospitato il pranzo per più di 20 membri della sua famiglia. Tra gli ospiti c'erano il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia, il conte e la contessa di Wessex e i loro figli, Lady Louise Windsor, 18 anni, e James, Visconte Severn, 14. Resta inteso che ad Andrew si sono uniti Beatrice. Suo marito Edoardo Mapellimozzi e la loro figlia Sienna di tre mesi, nonché Eugenie e suo marito Jack Brooksbank con il figlio August di 10 mesi. Si dice che altri ospiti abbiano incluso Mike e Dara Tainall con i loro tre figli e la figlia della principessa Margaret, Lady Saracciato, 57 anni, con la sua famiglia. Gli assenti degni di nota erano la principessa Anna, 71 anni, e il marito vice-ammiraglio Sir Tim Lawrence, che si pensava fossero in isolamento nella loro casa nel Gloucestershire dopo essere risultati positivi al Covid.